Si chiude oggi la tre giorni del treno di Lega Ambiente a Pescara, tre giorni per parlare di ambiente, di sostenibilità e anche di qualche dato che è uscito fuori e che riguarda proprio la nostra regione, Presidente, qual è la situazione? Sì, abbiamo fatto un monitoraggio col treno verde sul comune di Pescara, abbiamo attenzionato otto punti con i nostri volontari, due hanno registrato dei picchi alti. Sono realtà che conosciamo, in modo particolare via Lebovio, questo per dire che c'è sempre più necessità di dare spazio ai temi proprio del treno verde di quest'anno, che parlano di mobilità sostenibile, di ridisegnare una città che metta al centro del servizio pubblico la qualità della vita dei cittadini, perché non ci possiamo più permettere 60.000 morti l'anno dovuti all'inquinamento e soprattutto perché proprio ieri è intervenuto il defermento da parte dell'Italia alla Corte Europea, quindi l'ennesima infrazione che ci costerà milioni di euro, proprio per la qualità dell'aria. Dobbiamo cercare di accelerare su questi processi perché avere a che fare col biossido di azoto significa avere a che fare con un elemento che deriva dalla combustione. Anche accelerare nel passaggio verso l'elettrico ci aiuterà in questa direzione. Per noi la sostenibilità ambientale è un tema importantissimo, soprattutto è una leva che ci consente di pensare ad uno sviluppo dell'infrastruttura, della mobilità su ferro, dell'uso del mezzo pubblico e anche delle fonti rinnovabili. Noi abbiamo diversi interventi sulla rete nazionale, sia per la mobilità dei viaggiatori che per la mobilità delle merci. Abbiamo già svolto importanti lavori in sei stazioni della regione Abruzzo per un importo di 24 milioni e mezzo di euro. Abbiamo già avviato delle attività per Giulianova, le avvieremo presto anche per Vasto San Salvo e completeremo le attività anche all'interno della stazione di Pescara Centrale in un bienio complessivamente per la parte restante che ho citato 2019-2020 per un ulteriore importo di 15 milioni di euro.